Verona, Vicenza e infine Padova. Giro elettorale in alcune delle roccaforti venete e dell'Udc per Pierferdinando Casini. E in questa parte del profondo nord per il leader dei centristi inevitabile affrontare quello che è il tema del giorno, ovvero la cessione all'Italia. Se c'erano imprenditori italiani disponibili a mettere capitali freschi e non a indebitarsi con le banche per entrare in All'Italia, perché non sono venuti fuori prima? Non vorrei che questa fosse una buttada preelettorale e questa possibile cordata italiana che cerca di materializzarsi oggi o che Berlusconi annuncia oggi scompaia il 14 aprile. Casini poi ha definito scandalosa la proposta di istituire una commissione di inchiesta sugli episodi del G8 a Genova e alla caserma di Bolzaneto, difendendo l'operato delle forze dell'ordine. Infine ha ribadito quale dovrà essere il ruolo dei centristi all'indomani delle elezioni. Essere la sentinella anti-inciuccio tra Berlusconi e l'elettroni.